salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di libri interviste oggi abbiamo come ospite giulia fiori direttamente da roma ciao giulia ciao grazie oggi presentiamo un volume che si chiama giclital ed è uscito quindi recentemente e è un volume molto particolare un fantasy ne parleremo ampiamente in questa puntata ma prima di cominciare ci terrei a presentarvi le due mascotte che ci faranno un po da guida e da protettori in questa puntata e che sono in effetti queste due figure Sally e Jack quindi dopo ne parleremo meglio quindi e vi dirò perché quindi Sally e Jack sono i protagonisti di questa puntata ma bando alle ciance quindi partiamo subito quindi con l'intervista a questa giovane autrice che ci è venuta a trovare da Roma e chiediamo subito a Giulia come è nata l'idea di scrivere questo romanzo allora io sulla carta sono ingegnere e dopo la laurea ho iniziato a lavorare in in un'azienda solo che praticamente subito ho capito che non era il lavoro che faceva per me non era il posto per me io ho sempre sognato di lavorare con i libri di aprire la mia libreria e e quindi diciamo che quel luogo non era adatto a me e da lì è nato Gillian ovvero il mio protagonista che è un un contabile un elfo contabile e quindi più insomma sono rimasta sempre nelle materie scientifiche perché ovviamente non mi piaceva un elfo ingegnere e quindi ho scelto il contabile che però sogna di diventare un libraio e quindi nella mia mente è nato Gillian e mi ha chiesto di raccontare la sua storia che inizialmente è simile alla mia però poi prende la sua strada certo certo in effetti l'idea dell'elfo è una cosa molto particolare molto simpatica a me mi fa venire in mente un vecchio film che si chiamava elf che è un film che solitamente veniva distribuito quindi nei canali rai o anche nei canali mediaset il periodo natalizio ed era un film molto tenero molto simpatico ricordo quindi con will ferrell e zoe de chanel una splendida zoe de chanel quindi primi anni 2000 credo 2002 2003 quindi mi è subito venuto in mente questo ricordo dell'infanzia della mia infanzia ma dell'infanzia anche di tanti altri ragazzi e quindi in effetti è una tematica particolare un personaggio particolare quindi appartiene ovviamente alla mitologia germanica e al fantasy in generale gli elfi dirne una l'elfo più famoso credo che ormai sappiamo chi è legolas signore degli anelli ma gli elfi ovviamente sono tante altre cose quindi sono delle figure mitologiche molto particolari quindi per la mitologia scandinava e germanica sono il perno principale per la mitologia se non erro quella germanica gli elfi sono creature dispettose creature chiaramente non proprio positive mentre invece per la mitologia scandinava che è un po' è sorella della mitologia germanica invece sono creature buone quindi protettrici dei boschi e della natura in generale ma entriamo nel vivo quindi della trama e chiediamo a giulia mh una delle tematiche una delle tematiche principali di questo libro è l'amore per i libri questo ovviamente si è si nota subito quanto è importante per te la divulgazione e l'uso del libro come strumento non solo di conoscenza ma anche di condivisione di amicizia di di dialogo beh allora eh per me i libri sono fondamentali nella vita di una persona e nel suo percorso sia eh perché eh aiutano a a crescere aiutano in molte cose soprattutto ehm a sviluppare una proprietà di linguaggio a conoscere ma eh la funzione più importante dei libri è proprio quella di ehm la più semplice quella di tenere compagnia e di permetterti di viaggiare in tanti mondi di conoscere eh luoghi diversi sia inventati ma anche eh luoghi lontani che esistono nella realtà e ehm e secondo me eh il libro eh infatti le statistiche ne hanno la conferma è stato molto importante in questo ultimo periodo eh della storia del mondo e perché appunto ti permettono di viaggiare sia con la fantasia ma anche eh con la mente in giro per il mondo è importante anche per dialogare eh ovviamente se si conoscono persone che leggono esattamente come te leggono lo stesso genere eh sono eh dei come dire degli argomenti eh che portano a eh discussioni oltre che molto seri ma anche coinvolgenti quindi sono importanti per tantissime cose eh e poi comunque sono bellissime eh esteticamente quindi già già per quello sono molti importanti e mh sono fondamentali per la crescita dei ragazzi eh e anche eh sono rilassanti quindi sono un'ottima alternativa a allo schermo che sia un computer un cellulare o una televisione eh la sera in effetti è meglio leggere un libro che guarda la televisione e posso assicurarvi che sono molto meglio per eh sono utili per svegliarsi poi al mattino più rilassati perché eh lo schermo magari eh stressa il cervello mentre eh il libro lo rilassa quindi che altro devo dire? Sono importantissimi e bellissimi. Certo certo assolutamente condivido in pieno quindi quello che si è detto e tra l'altro questo poi introduce anche alla terza domanda che voglio fare a Giulia. Parliamo un po' della trama del libro. Entriamo nel vivo quindi parliamo un po' di questi personaggi facciamoli uscire facciamoli uscire fuori dalla carta e facciamoli camminare per l'alfabeto quindi descriviamo un po' la trama di questo testo. Ok eh i libri in in questo mio romanzo sono importantissimi perché rappresentano proprio una tipologia di potere eh si chiama la magia dei materiali che in realtà ovviamente è una magia generica che riguarda tutti i materiali ma eh i maghi la utilizzano per rilegare dei libri e quindi eh in questo mio romanzo i libri hanno eh molto più potere rispetto a un libro normale. Ehm il protagonista come dicevo è Gillian anche se in realtà non è l'unico protagonista perché avendo scritto un epic fantasy ci sono più protagonisti soprattutto due. Lui è un'altra è un'altra vabbè non voglio dire niente un altro personaggio comunque che poi arriverà più avanti quindi si inizia con Gillian che appunto è un contabile un elfo contabile che vive nel regno degli elfi e vuole il sogno di diventare liberaio però ehm lui essendo un elfo ha il potere della terra quindi non ha la magia dei materiali e soprattutto una legge ehm che ha imposto un druido che comanda su queste terre eh vieta la lo studio di magie che non appartengono al proprio alla propria razza e quindi lui non può neanche provare a studiare la magia dei materiali però ovviamente tutto questo non lo ferma e lui si allena in segreto con un mago libraio di nome Brox e da lì però eh scopre delle realtà che gli erano state celate legate proprio a questa magia e e da lì parte la 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 sua avventura perché è costretto sia a fuggire da un nemico ma anche eh a correre alla ricerca dello ciclital che nessuno sa cos'è ma si sa soltanto che ehm potrà aiutare eh le terre di Ferran che è il luogo in cui vivono a eh distruggere la tirannia di questo druido. Perfetto quindi in effetti da quello che eh ci ha raccontato Giulia si evince quindi si 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 capisce che ci sono un lavoro anzi c'è un lavoro di ricerca ampio quindi il druido è un'altra figura importante della mitologia questa volta affondiamo nella mitologia celtica i druidi sono una figura semileggendaria in effetti perché noi di quel poco che sappiamo dei druidi lo sappiamo grazie a racconti storici come il De Bello Gallico di Giulio Cesare dove compaiono chiaramente i druidi ma visti come figure negative perché in effetti i druidi nel momento in cui Giulio Cesare invase la Gallia fronteggiarono quindi a muso duro i romani ovviamente per motivi che non stiamo qui a raccontare parliamo di un di un popolo che era stato invaso e quindi era più che giusto che i druidi che erano chiaramente eh la fetta di popolazione più colta erano la loro guida prende prendessero quindi anche loro le armi contro i romani e poi abbiamo un'altra figura di druido che è quella che più è conosciuta e più amata dal pubblico ed è quella di Merlino eh la storia di Arturo ci insegna quindi che non è soltanto un racconto mitologico la storia di Arturo ci insegna i valori dell'amicizia dell'amore della fratellanza della condivisione e Merlino è un personaggio fantastico che fa un po' da collante tra Reartula, Ancillotto, Ginevra, Parsifal, tutti questi personaggi di questa mitologia particolarissima che è quasi un genere a parte, mitologia arturiana quindi il druido compare e poi ovviamente in tempi recenti potremmo chiamare druido anche Gandalf, Signore degli Anelli, la trilogia sia cinematografica che letteraria, quindi letteraria di Tolkien e cinematografica di Peter Jackson e potrebbero esserci tanti altri eh riferimenti di tipo sia cinematografico che letterario. Vediamo la quarta domanda manco a farla apposta è ehm inerente a quello che stavamo dicendo poco fa e vorrei chiedere a Giulia quali sono stati i i suoi maestri, quali sono stati gli autori che l'hanno più ispirata eh i custodi delle sue letture? Allora il più importante è il mio autore preferito ovviamente Epic Fantasy è Terry Brooks e anche lui eh coinvolge i druidi nella sua enorme saga, infinita saga di Shannara e grazie a lui ho eh ho amato ancora di più il fantasy perché ovviamente io prima avevo letto Harry Potter, Tolkien, Lewis, Pullman, comunque questi grandi del fantasy e ehm però Terry Brooks mi ha dato proprio la spinta a entrare nel nel fantasy ma anche a scrivere. Infatti ehm nel mio libro c'è una dedica all'inizio proprio per lui e il mio stile richiama molto quello di Terry Brooks. Certo poi tra l'altro Terry Brooks è probabilmente almeno per me il secondo più grande autore fantasy del mondo dopo Tolkien perché Tolkien è insuperabile ovviamente perché è colui che ha dato vita al genere e poi ovviamente quindi Brooks subito dopo, Tolkien britannico anzi inglese per meglio dire, Brooks americano, due stili diversi ma lo stesso pathos, la stessa enfasi nel raccontare le loro storie, personaggio ovviamente di di Alanon quindi parliamo di lui, di druido Alanon che è un'altra figura, un'altra figura polarizzante di di questa storia insieme ovviamente a Flick, insieme a diciamo a a Yerl Shannar, a Aventin e tanti altri personaggi quindi di questo lungo, di questo arcipelago di libri di Terry Brooks. Ovviamente mh bisogna dire che il fantasy è forse uno dei generi che più tocca quindi le le corde delle persone no? Quindi che siano esse sentimentali o avventurose quindi il fantasy è voglia di viaggiare voglia di 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 muoversi per il mondo di conoscere voglia di condivisione io non so forse tu sei più piccola di me ma mi ricordo quando ero piccolo io c'era un ciclo di film che facevano quindi su se non ero su Italia 1 si chiamava fantastiche avventure e ogni settimana veniva proposto un film diverso fantasy ovviamente non era ancora uscito il signore degli anelli e l'hobbit erano fantasy degli anni 80 90 quindi la storia fantastica la storia infinita Willow che sono film che oggi sono considerati un po datati ma in effetti consiglio di recuperare a chi ci ascolta e chi ci vede perché ci fanno capire in effetti quindi come si evolve chiaramente il fantasy come ovviamente diciamo va a finire anche nel cinema ma anche nell'arte nella e ovviamente la letteratura sappiamo benissimo che è un mare magnum quindi la letteratura genera tutt'altro tutto il resto quindi perfetto vorrei chiedere a Giulia quindi a questo punto prima di concludere questa piacevole intervista cosa consiglieresti ad un giovane scrittore che si vuole cimentare in un genere come questo quindi quali devono essere i punti cardine che un giovane scrittore deve adoperare per scrivere un buon fantasy allora la cosa fondamentale è leggere leggere tantissimo se si vuole scrivere un genere bisogna leggere tantissimi libri di quel genere io lo dico sempre infatti io non scrivo ad esempio gialli perché non ho mai letto gialli e quindi non sono preparato non so com'è costruito un romanzo giallo e quindi bisogna leggere tantissimo poi ci sono molti manuali di scrittura che aiutano ovviamente a capire come strutturare non so una trama o i personaggi l'ambientazione che per un fantasy l'ambientazione è importantissima quindi leggere magari fantasy anche più descrittivi per capire come bisogna descrivere e strutturare un'ambientazione o personaggi poi ovviamente non è che uno deve per forza scrivere un fantasy descrittivo però aiutano molto di più e ci sono anche ovviamente corsi di scrittura poi bisogna cimentarsi pian piano nella scrittura iniziando da racconti brevi piccole storielle però la cosa fondamentale è leggere certo assolutamente vorrei ricordare quindi per chi non lo sapesse che giulia fiori ha scritto anche altri libri tra l'altro c'è un volume che è appena uscito da pochissimi giorni che si chiama per un chicco di caffè che invece è una storia d'amore giusto giulia una storia d'amore ambientata a roma quindi in effetti con le ambientazioni tipicamente romane quindi della della storia di questa grande città quindi ed è la storia di un di un personaggio femminile chiamato cassandra se non erro vero poi ovviamente ha scritto anche altri libri giulia quindi ha scritto draghi di mad che è una raccolta di cinque racconti che hanno come protagonisti draghi altra figura mitologica altra figura molto presente nel fantasy e poi fantastichiamo che è una specie di agenda giusto giulia si è un'agenda che non è strutturata come un'agenda normale con giorni e mesi ma all'interno tante schede che aiutano a costruire una storia fantasy perché io mi organizzo sempre prima di scrivere quindi devo scrivere personaggi l'ambientazione la sinossi tantissime cose alberi genealogici e quindi ho pensato di racchiudere in questa agenda tutto quello che faccio io ovviamente sia con schede che con dei vari consigli per aiutare gli scrittori fantasy a progettare la loro storia e all'interno ci sono tanti consigli di letture quindi ci sono tanti autori emergenti italiani del fantasy esatto ottimo quindi ottima idea vogliamo mostrare la copertina di questo libro così facciamo vedere quindi a chi ci ascolta e a chi ci vede quindi la copertina ora è fatta molto bene c'è un'illustrazione molto carina quindi è un volume veramente molto bello e molto ben fatto quindi voglio consigliare a chi ci ascolta e chi ci vede e voglio dare un messaggio allora abbiamo detto le mascotte di oggi sono jack e selli quindi se non volete che jack venga frenzonato da selli se se volete che quindi la storia d'amore tra jack e selli continui senza chiaramente interruzioni quindi se volete che quindi questa storia d'amore quindi fantasy bartoniana vada avanti iscrivetevi al canale ma soprattutto acquistate non solo questo libro di giulia ma anche gli altri libri perché in effetti giulia è una scrittrice poliedrica particolare quindi merita sicuramente di essere tenuta in considerazione voglio dare un forte abbraccio virtuale a giulia e voglio ringraziarla per essere venuta nella mia rubrica e do appuntamento quindi agli spettatori alla prossima puntata di libri interviste un abbraccio forte ciao ciao